Buonasera. Abbiamo qua al momento Jacopo e Luca e fra un po' ci raggiungerà anche Matteo del Faro dei Curiosi. Grazie mille anzitutto per partecipare a questa live con noi questa sera, siamo molto molto contenti di avervi qui con noi. Mi ha colpito tantissimo, avevo scritto nei messaggi infatti il vostro profilo Instagram nel primo modo in cui vi ho conosciuto, veramente complimenti, seguiteli e magari scriviamo anche il link al canale Instagram perché è veramente bello, dopo ci raccontate anche un attimo come vi organizzate e tutto quanto e in più fate anche live il martedio e il venerdì giusto? Su Twitch? Sì, giusto. Quindi mi raccomando seguiteli su entrambi perché valia veramente la pena. Cosa facciamo? Iniziate a raccontarci un attimino di voi anche se Matteo non è ancora arrivato o facciamo l'introduction più tardi e iniziamo a parlare più del vostro progetto. Se vuoi parliamo del Faro che tanto Matteo ormai questa cosa penso la sappia dopo tre anni. Iniziate allora a raccontarci un attimo come è nato in questo progetto di divulgazione, come vi siete ritrovati voi tre e da quanto esiste, che cosa rappresenta anche per voi? Se vuole Jacopo introdurlo. Ok, tanto ormai ce l'abbiamo rodato l'introduzione. Praticamente e innanzitutto salve a tutti. Sono Jacopo, mi presenterò con calma dopo quando sarà qui anche Matteo. Però insomma diciamo che Life in Faro di Curiosi nasce da un racconto che mi porto dietro da tanti anni dai banchi di scuola delle superiori. Io diciamo ho fatto questo liceo scientifico come insomma anche Luca, tra l'altro eravamo lo stesso liceo. Io avevo un professore di filosofia storica che è venuto poi a mancare il nostro ultimo anno, il quinto anno di liceo. è stato un professore di filosofia molto importante per noi, era un po' un punto fermo. Una tra le tante cose importanti, questa cosa me la porto dietro perché è stata particolarmente segnante per me, è stato il fatto che ci raccontò un giorno del fatto che ognuno di noi ha una piccola luce, una piccola lanterna che si porta dietro, che illumina i lati oscuri insomma della conoscenza, e la metteva un po' a paragone con i grandi riflettori che invece hanno i grandi media, per esempio, che quindi preferiscono magari puntarli insomma in quei lati che sono meno interessanti o piuttosto più influenti, che possono fare più share e così via. E quindi ci ha detto insomma, ognuno di voi ha un compito, quindi riportandolo un po' a una coscienza personale, di illuminare in quel piccolo intorno a sé che può, con i propri mezzi, per poter far luce su quelle questioni che in realtà presentano essere, risultano essere un pochino più importanti rispetto a magari ignorate o semplicemente appunto di secondo piano perché magari non fanno share, ecco, non sono pubblicizzabili o cose del genere. Da qui in realtà con questo piccolo racconto è semplicemente per dire che questo è il motivo per cui ci chiamiamo il faro dei curiosi, insomma ci siamo messi insieme in tre per dire ok, abbiamo tre piccole luci, facciamo un piccolo faro, con tutte le persone poi che hanno collaborato con noi nel corso del tempo da, ormai sono tre anni, Luca, da aprile che è aprile 2018, quindi è un po' di tempo. Io, Luca e Matteo stavamo di nuovo sui banchi universitari questa volta, abbiamo fatto tutte e tre biologia e tutte e tre abbiamo fatto la stessa magistrale in biodiversità e gestione degli ecosistemi. Alla fine, insomma, tutte e tre in realtà facevamo per conto nostro un po' di divulgazione sui nostri social. Poi abbiamo detto ma scusa, ma la stiamo facendo separata, ma facciamo una bella pagina. Sì, è forte. Esatto. E da lì appunto abbiamo iniziato questa piccola, come dire, pagina di divulgazione che poi ha portato personalmente tante soddisfazioni dal punto di vista lavorativo, perché insomma lo anticipo, ecco, sono un giornalista scientifico, mi sto formando al Master della Scienza nella pratica giornalistica della Sapienza, Università di Roma, mentre i miei colleghi qui a fianco sono dei dottorandi, quindi hanno deciso di prendere un'altra strada di una carriera insomma che è assolutamente, come dire, Luca aiutami, aiutami, supportami. Che aiuto? Speriamo sempre di far luce in qualche modo, chi con la ricerca, chi con la divulgazione. Esatto, sono modi di fare luce. Sì, sì. L'abbiamo parlato pure un'altra volta nella live con Mi chiamo Terra, con Elena, e parlavamo appunto del fare divulgazione, ma anche del post laurea, chi fa ricerca, chi invece magari si mette a fare monitoraggio, chi fa l'Atlante di quel parco, tutti quei lavori classici che possono esistere, così come anche fare divulgazione. E dopo tutto ciò, alla fine di tutto questo, perché c'è anche un enorme precariato, quello che in cui si imbatte è anche la divulgazione come educazione, che è la scuola poi, quindi fare i maestri, i professori, in fine ultimo è sempre un atto di divulgazione, ma proprio educativo a livello di formare, educare le persone. E quindi si fa sempre luce, secondo me è poi un motto quasi, quindi far luce per far capire le cose è un modo per capire realmente e poterle applicare poi successivamente, altrimenti se si fa in modo mnemonico ritorniamo sempre in questo, nel ciclo della società in cui viviamo, che si fa tutto un po' di corsa meccanicamente, senza magari chiedersi il perché delle cose della vita. E qua andiamo per la filosofia, decidete voi. Allora, mi fermo un attimo facendo una domanda un po' meno filosofica, magari, ma ho visto che avete una mascotte, adesso non ricordo il nome, perdonatemi, però magari ce l'ho dita adesso a tutti, sono curiosa anche questa mascotte, chi è? Da dove viene fuori? Dico io? Vado io? Sì, sì. Allora, si chiama Cliff. Sì, giusto. Cliff, come scogliera, no? Ehm, ed è... Di come è nato anche, eh? Come è nato, praticamente... Come lo siamo abbattuto sulla chat, parlandone... Praticamente, che succede? È un... La storia vuole che sia un... Già un inquilino del faro, prima che noi lo abitassimo, insomma, lo occupassimo, insomma, non più che abitarlo, in maniera un po' abusiva, così ci siamo messi, abbiamo messo le nostre valigie, non ci siamo accorti che in realtà c'era questo Cormorano, che era il guardiano del faro, e che inizialmente ci ha tollerato, poi a un certo punto, quando abbiamo iniziato dei percorsi professionali, no? Quindi ulteriori, quelli dell'università, e ha detto, aspetta, no, allora se qui si fanno le cose professionalmente, allora bisogna che esco fuori anch'io, perché non è possibile che, no? Se prima si scherzava, no? A Tarallucci e Vino si faceva informazione, adesso che state andando, no? Dispiegando le vostre ali di pulcini dopo l'università, no? Allora è arrivato il momento che mi faccia vedere anch'io. Questa è, insomma, la storia che ci raccontiamo, no? E poi Cliff è nato perché in alcuni post ho iniziato a mettere dei battibecchi personali, dei botte in risposta che io facevo con una persona X, e poi le persone si sono curiosite, mi sono stupito che anche le persone mi andavano dietro, mi scrivevano, ma chi è questa persona che commenta ai post e così via, e poi in realtà questa è semplicemente una scusa, come quella che utilizziamo sempre per fare divulgazione, che è un mero esercizio di storytelling, ossia si cattura l'attenzione di una persona raccontandovi una storia, e da lì cerchi di farlo passare attraverso i punti focali del racconto, inizio, centro e fine, e tutto è iniziato con un evento, no? Di solito si turba la quiete, quindi c'è un evento che turba la quiete, quindi a un certo punto nei post ha iniziato a scrivere quest'altra figura, piano piano la tensione, fra virgolette ovviamente, è cresciuta sempre di più, fino a quando è arrivato a palesarsi, era un evento speciale, era ad aprile con i nostri tre anni, mi sembra che l'abbiamo mostrato, insomma, si è palesato, insomma, questo, questo figuro, questo losco figuro, un po' arrabbiato, sempre crucciato, con questa lanterna, insomma, che ci prende sempre un po' in giro, che non ci ritiene capaci, però... Perché è stato all'oscuro tanto tempo, dai! Giustamente, giustamente. Ma con questi racconti che ci avete un po' espresso in questa fase, avete mai pensato a fare anche un po' la vostra passione di, sì, divulgazione, ma anche, come ha parlato Luca prima, proprio di anche eventualmente in un futuro di educazione, vi è mai passato per la mente, magari sì, molto probabilmente, di fare anche dei libri per bambini? Nel senso, adesso, tutto questo percorso, anche le immagini che create, a me piace veramente tanto come strutturate il tutto, ed è vero, avete appunto un incipit, poi un'evoluzione della storia, una conclusione, però tutto è in chiave di posti Instagram, ovviamente o Facebook, anche dove avete la pagina, ma in un futuro, non so, vi piacerebbe un qualcosa di questo tipo, tipo creare proprio delle storie per educare e divulgare la scienza, magari perché questo personaggio, Cliff, mi piace molto come cosa, davvero secondo me può essere molto carino, quindi vi è mai... Le storie di Cliff! Diciamo che, guarda, qualche anno fa, un paio di anni fa, avevo anche un contatto che mi aveva chiesto, insomma, con la divulgazione, insomma, come va, che fate? E, insomma, ero uscito fuori dal discorso che era, sarebbe stato carino fare una sorta di libro per i bambini, insomma, sia per la divulgazione, ma il stile per i bambini, però lì è molto complesso, anche perché interfacciarsi con i bambini dipende anche di che età, perché bisogna fare tutte immagini, quindi come si presta poi la nostra grafica alla fine, però, la storia di Cliff, come dicevamo adesso, però bisogna tener conto sempre di una sfida, perché alla fine il bambino di otto anni non ha le stesse capacità o le stesse, diciamo, skills, ecco, di uno, di dieci o di dodici, cambia totalmente il target, però se può fa tutto, diciamo così, sarebbe molto, in realtà, molto interessante mettere su carta qualcosa che, comunque così abbiamo già pronto, tant'è, se Jacopo si ricorda, un anno e mezzo fa, forse, o sì, circa un anno e mezzo fa, abbiamo fatto dei liberetti, dei libelli, chiamiamoli così, per tacei, era un giornaletto scientifico dove riportavamo sia i post che delle news, in occasione, soprattutto, dell'estate 2019, dove abbiamo partecipato all'ostacia ostia di, come si chiama, Jacopo? È un festival delle associazioni di volontariato, non mi ricordo il nome però, social days, si chiamano, social days, eh, ostia, diciamolo, per chi, insomma, non è di Roma, è alla spiaggia di Roma, la spiaggia romana, insomma, esatto, quindi... dai, nei film si sente spesso, no, è solo una mia impressione, non lo so, io l'avevo già sentita, magari no, in realtà, però sì, sì. Sì, 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 è famosa, è famosa. No, ha ragione Luca, anche perché, diciamo, l'unica cosa che ci blocca, e, a parte il tempo, che chiaramente, facciamo miliardi di cose, poi, io, generalmente, avendo fatto questo percorso, adesso, prima che arriva Matteo, prima che ci riporta all'ordine, ho questa piccola, come dire, dietro le quinte, visto che io sto facendo questo percorso di comunicazione scientifica, ho tanti input da tante parti, no? e, quindi, voglio subito mettere in pratica quello che imparo, e, quindi, li tartasso, gli invio un sacco di proposte, no, possiamo fare questo, possiamo fare quest'altro, e, quindi, il canale Twitch, e, quindi, no, che sono una sorta di video podcast, che facciamo, come fate voi, cioè, sono delle cose, un mezzo meraviglioso, tra l'altro, voi lo fate, adesso che vi sto vedendo dietro il quinto, lo fate ancora più professionale di noi, noi ci arrangiamo, ci arroziamo, così. Accolgo l'occasione per ringraziare Pandri, pubblicamente, scusa, mi è stato interrotto, ma, veramente, non lo nominiamo mai, di mantenere anonimato, ma dietro le quinte, veramente, grazie a lui, quindi, grazie Pandri, scusami, Jacopo. No, non ti preoccupi, no, hai fatto benissimo, perché, veramente, quello che fa lui, dall'esterno lo faccio io, all'interno, inoltre, oltre che a condurre, no? Il venerdì sera, questi incontri che facciamo con altri comunicatori, o con scienziati, e così via, e so che devi avere occhi da 3.000 parti, quindi oggi mi sento molto rilassato, semplicemente a parlare, basta. E niente, no, l'unica cosa è una cosa importante che voglio sottolineare, che adesso, arrivati al momento, nel momento nel quale ci applichiamo seriamente, nonostante noi comunque stiamo continuando chiaramente dei percorsi di formazione, quindi non stiamo realmente lavorando, o almeno, ancora non si può ritenere dallo Stato un lavoro vero e proprio, ci tengo a sottolineare che comunque una delle cose che ci ferma, che vogliamo assolutamente fare, è eventualmente pagare il collaboratore che si presterà a fare le illustrazioni. Le illustrazioni, Cliff in particolare l'ha fatto Sara Silla, quindi se volete io faccio questo nome, se vi piace l'illustrazione andatela a seguire perché è bravissima, si occupa di storytelling e si occupa di visual storytelling, quindi insomma è una persona che non è che fa solo bei disegni, ma ci ha lavorato, ci ha studiato per fare queste cose e come è giusto che sia, va valorizzato un lavoro, perché è un lavoro e quindi prima dobbiamo capire come riuscire a professionare. il discorso, eccolo. Ciao Matteo, benvenuto. Ciao, scusate, sono... Happy della live. Stai arrivando a troppo tardi, basta. Meno che faccio. Ci mancherebbe, guarda, colgo l'occasione per fare una battuta perché sto... Allora, hai detto, no, Jacopo, anche se al momento ci stiamo ancora formando perché dallo Stato non è ancora riconosciuto un lavoro, ma se iniziamo ad aprire il dibattito, il dottorato è un lavoro o no? Penso che non finiamo più. Infatti dalla cialgia ci sono i commenti, no dai, il dottorato è un lavoro e ci sono appunto le riunioni che ti tengono al lavoro fino a tardi. Mamma mia. Quindi, comunque... Eri, eccolo qua. Devo mettere in orizzontale la telecamera. Oddio, così ti vedi? Ah, ok. Ah, ma certo. Sì, sì, assolutamente. Perfetto. Ovviamente non volevo insultare nessun dottorato, io lo faccio, quotidianamente insulto Matteo e Luca che fanno il dottorato, hanno fatto questa scelta divida coraggiosissima, però... Ma come tutto, cioè, tutti e tutti. Punta adesso, facciamoci una ragione. No, comunque sì, ovviamente, ovviamente è una battuta, scherzo. No, ci mancherebbe. Di che si parlava? Di te. Perfetto. Io non capisco bene, però, se sei dentro... Ah, ok, adesso forse sì. Ok. Perfetto, ecco. Qua c'è anche Matteo con noi. Allora, ti abbiamo aspettato per fare le presentazioni ufficiali di ognuno di voi, quindi, nel frattempo, e ecco qua e Luca ci hanno un po' raccontato la storia del Faro dei Curiosi, come è nata, e perché, da dove nasce il nome, chi è Cliff. Adesso, prima di fare la presentazione di ognuno di voi, però, mi collego un attimo al discorso che stava facendo proprio adesso Jacopo e al fatto, a una domanda che c'è nella chat di mt underscore mt mt, magari voi lo conoscete perché ogni tanto vi segue, dice... Sì, sì, sì. Però dice, non l'hai visto, tira le file nelle ombra, qui nell'ombra, quindi, partiamo da Luca a questo punto, dato che ha attirato la curiosità. Luca, tu cosa fai? Qual è il tuo ruolo? Se avete dei ruoli predefiniti. Poi, dopo che ci avete raccontato un po' voi come organizzate all'interno del progetto, ci raccontate anche un po' voi chi siete personalmente. Ah, benissimo. Quindi dici live, dici... Sì, dentro al progetto Faro dei Curiosi, il live Faro dei Curiosi, cosa fai, dato che non ti si vede, in effetti, la tua faccia, effettivamente, anche nei posti. È nuova, no. Non si vede. Ognuno ha il suo ruolo, no? Come pure nella società, ognuno ha il suo ruolo. Poi, bene o male, quando fai divulgazione, puoi, slash, devi usare un po' i social, no? Per apparire, alla fine, e per far arrivare i contenuti, quello che diciamo poc'anzi. E diciamo che nelle live che fanno sostanzialmente Iacomo, Matteo e gli ospiti, intervengo pochissimo, ma non per una ragione di vita, ma semplicemente perché alla fine, bene o male, non riesco a incastrare con gli impegni tutta la mole che ho di lavoro e quindi semplicemente poi non riesco a stati dietro. Come hai visto che Matteo è arrivato adesso, può capitare che magari uno ha degli arretrati. Però, a parte questo, diciamo, ognuno ha un suo ruolo, sia di scrivere degli articoli, adesso stiamo riprogrammando, abbiamo fatto questo format nuovo che sta piacendo molto, quindi la scrittura degli articoli, ma anche una bella grafica perché alla fine il post può essere più o meno scritto, ma quantomeno viene più accattivante, ma anche capito se è ben rappresentato, quindi una bella figura può dare il suo perché. E oltre a scrivere articoli, ci leggiamo fra di noi gli articoli che facciamo e oltre alla scrittura, alla divulgazione in senso stritto, anzi, in senso stritto, facciamo vari progetti, quindi ad esempio tempo fa avevo avviato una rubrica anche come l'ha fatto Jacopo su YouTube e anche lì molto, molto interessante, ma serve molto tempo per portare avanti tutti quei tipi di progetti, quindi fare di cosa hai fatto tu, no? Sì, 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 ho fatto naturalmente complesso, ho fatto questa prima puntata, però è molto, parlare delle relazioni, insomma, uomo-natura, che è un tema che a me interessa molto, ma inevitabilmente, bene o male, ci interessa un po', ci riguarda da vicino, però è molto complesso portare avanti tutto, quindi bisogna poi scegliere, perché anche lì, avendo fatto quelle emotiche, richiede tempo anche a metterti lì a scriverle e via dicendo, e poi oltre questi progetti un po' più anche, diciamo, teorici, ma questa è una cosa anche pratica, applicativa, ci sono dei progetti che abbiamo fatto di tipologie un po' più, sì, un po' più pratiche, un po' più applicative, e magari adesso ne parleremo, non spoilero nulla, ma magari ne parleremo tra breve, forse. Tra le mille cose, dai, va bene. Non accendiamo, o nulla. Chi lo dirà? Vabbè, comunque accendiamo, visto che Luca diventerà primo nome di un lavoro che è andato avanti per diverso tempo, abbiamo gestito una serie di campionamenti di plastiche spiaggiate intorno a diverse stazioni sul litorale naziale, insomma, e con Life ci siamo fatti portavoce poi della ricerca dei volontari, abbiamo fatto un sacco di educazione ambientale, sfruttando appunto le varie, visto che una volta al mese stavamo in campo, in dieci stazioni differenti, voglio dire, quindi c'è stato un sacco modo in quel periodo di far avvicinare tutta una serie di scritti anche questo tipo di tematiche, quindi a seconda dell'anno, del periodo, dei progetti all'attivo, c'è chi ci si mette di più o di meno quando è più libero. Adesso Luca scrive, cioè sta facendo l'analisi per tutti questi dati raccolti, quindi insomma, anche questo è un lavoro, voglio dire, quindi insomma, ognuno lo mette il proprio, ognuno lo mette il proprio, quindi insomma, io con Tucci mi diverto un casino, quindi ci sto pure se faccio notate, insomma, però, ognuno spende in quello che può, che riesce. Poi devo dire la verità, nel corso del tempo, Luca, che questa figura un po' in ombra del faro, un po' l'eremita, secondo me, ha del suo fascino. Sono un po' che non vedete più di Jacopo. Sì, non ci fate caso, troppo la sua reflex a capricci. Comunque, per raggiungere l'ultima cosa, tutti noi scriviamo post settimanalmente, tutti noi tendiamo a revisionare i lavori degli altri, tutti noi comunque stiamo sul pezzo nel dietro le quinte nella gestione delle pagine social, principalmente Instagram, che è quella che dà più soddisfazioni, perché ci ha permesso di creare una rete che fino all'anno scorso era inimmaginabile, però ecco poi, ci sono tutta una serie di progetti secondati che serve molto più tempo prima di farli uscire e emergere, quindi è anche questo un lavoraccio dietro le quinte che non emerge subito, quindi è meno visibile. Assolutamente, sì, quindi non ci sono dei veri e propri ruoli predefiniti, diciamo. No, a parte la gestione di Jacopo per il canale Twitch che si è proposto attivamente, non che l'abbiamo costretto a prendersi tutte nel reparto tecnico e regge di Twitch, ma no, no, però a parte ecco, Jacopo che si sta cimentando di più su canale YouTube Twitch, che sono cose che obiettivamente necessitano di di tanto lavoro consecutivo e a parte quello tutti noi diciamo stiamo sul pezzo su Instagram e gli altri social. Bene. Diciamo che la e poi adesso ci presentiamo realmente perché a parte Jacopo diciamo che questa è la positività di un punto forte secondo me del faro, ossia siamo pochi, abbiamo avuto molti collaboratori nel corso degli anni che hanno scritto articoli con noi, anche una serie di articoli su uno stesso argomento, insomma abbiamo collaborato con tante persone però attivamente dietro appunto le quinte ci siamo sempre stati in tre e questo ha portato secondo me a sicuramente maggior stress perché se eravamo in di più magari riuscivamo a gestire meglio le cose però al contempo conoscendoci e sapendo un po' come la pensano gli altri e così via siamo riusciti a proporre diversi progetti in maniera molto fluida in modo tale che chiaramente se per esempio uno dei tre e mi riferisco specialmente a me perché ripeto forse evidentemente non facendo il dottorato sono quello che ha più tempo libero e quindi sono io che sono io che sono un po' il nulla facente dei tre no scherzo ovviamente scherzo però appunto proponendo tante cose ecco è normale che alcuni volti compaiano di più rispetto ad altri ed è secondo me la cosa migliore soprattutto per il nostro progetto ossia se ognuno uno di noi tre ci ha lo scrivizio di dire ok voglio fare questa cosa la possiamo fare non dobbiamo fare delle infinite riunioni di programmazione con dieci collaboratori per capire no è molto più snello e secondo me è anche molto più intimo con le persone che magari ti seguono e dicono ah ma Luca è quella persona in ombra che sta dietro no capito si creano queste cose che sono magari anche simpatiche Matteo per esempio io lo chiamo il dottore delle ostriche adesso lui ci spiegherà il perché l'ha dovuto dire ancora anche oggi ho detto che è il dottore delle ostriche e quindi insomma si creano tutte queste cosine che sono simpatiche vabbè dai poi ci sta che si vede il più la tua faccia no alla fine stai studiando appunto per comunicazione scientifica sperimenti direttamente no è anche un buon modo bene allora dai raccontateci un po' chi siete cosa c'è al di là di Life il fuero dei curiosi chi c'è dietro chi inizia tira una malatina vai abbiamo aspettato te Matteo inizia tu ah addirittura eh beh sì a te l'onore va bene ok non so quanti siete in chat perché non sono collegato su Twitch comunque un salutone a tutti innanzitutto sono Matteo Garzia e da quest'anno ho iniziato un dottorato di ricerca in sistematica metodolare sono al primo anno e come questi altri due baddigioni fino all'anno scorso ero uno studente magistrale in biodiversità e gestione degli ecosistemi a Roma 3 e ho preso questo diciamo percorso di studi perché comunque la ricerca mi ha comunque preso 4 anni su 5 di percorso formativo università perché diciamo ho seguito un team di ricerca anche extra tirocino penso che hanno superato i due anni netti da che devono essere 150 ore in triennale ho fatto quasi un anno e mezzo e poi da che doveva essere 150 ore anche in secondo anno poi in realtà ho sempre prolungato non per crediti extra perché non mi ha avuto niente però per passione e la mia passione era biologia marina e per questo insomma ho avuto la fortuna secondo anno di natriennale ho alzato la mano un'esercitazione di zoologia ma c'è qualcuno che fa subacqua qui dentro mi hanno detto che c'era una persona una dottoranda all'epoca che si occupava di biologia marina di molluski marini gastropoli dei coloratissimi multibranchi e da là ho seguito insomma lei che è il professore in lungo e largo nel Mediterraneo a campionare eccetera però la linea di ricerca era molto particolare e io non conoscevo nulla di questa cosa fino a quell'anno che era sistematica molecolare quindi cercare di studiare gli organismi marini attraverso il DNA semplicemente questo tutte le relazioni evolutive non si fanno morfologicamente ma si applicano studi di analisi di marcatori molecolari così li chiamiamo che appunto ci riescono ad identificare le specie e lei faceva filogenesi io ho iniziato adesso invece a studiare le ostriche di tutto il mondo è un progettone gigantesco che prende un sacco di collaboratori Florida Panama sei istoria naturale Parigi Sudafrica Kuwait insomma davvero una cosa gigantesca più grande di me infatti sono ancora sovrastato dallo stress di responsabilità e tutto quanto però è molto figo molto vincente e da che campionavo tutto l'anno sott'acqua adesso sono dieci ore su ventiquattro in laboratorio però qualche puntatina etropici prima o poi entro questi tre anni ce vado quindi niente te ne sei convinto tu o perché te l'ha promesso qualcuno? no no entrambe le cose a prescindere ce vado io poi se si riescono a fare anche le collaborazioni che sono previste meglio ancora ottimo allora guarda io in realtà adesso sono troppo curiosa sulla casa delle ostriche però facciamo presentare anche gli altri e dopo quando torniamo a fare le domande sulle mie curiosità sulle vostre passioni a questo punto volevo chiederti qualcosa di zoologia so già cosa chiederti posso quindi chi è il prossimo? vado io? vai Luca mi tolgo dall'ombra esatto l'ombra della mia identità per citare un grande un maestro e no io sono Luca e sto attualmente facendo il dottorato a Roma 3 University sto lavorando su sulle plastiche sulle macroplastiche praticamente ho lavorato in magistrale sempre come i due baldigioni poc'anzi dicevano ci siamo lavorati in biodiversità gestione degli animali e io ho preso il settore perché poi ognuno di noi ha scelto un settore diverso di ambientale io ho scelto il settore dell'ecologia delle acque quindi freshwater ecology e praticamente ho studiato gli impatti che potevano avere le microplastiche sui macroinvertebrati che sono dei piccoli animaletti che vivono sul fondo di fiumi e torrenti e ci possono indicare la qualità dell'acqua e quindi ho visto un po' come si comportavano in relazione alla presenza di microplastiche tant'è che alcuni di loro i tricotteri si rifacevano gli astucci con dei ciottoli sassi e in degli esperimenti invece hanno appunto fatto astucci di plastica quindi è stata un po' una scoperta abbastanza inquietante da un lato stupefacente dall'altro perché in biologia è sempre tutto molto figo e chi ha lavorato con me lo sa bene anche chi ha fatto stagio tirocinio tantissimi ragazzi che mi hanno aiutato per loro hanno sempre besti di satana le chiamavano così e come anche Matteo le vuole friggere in padella quindi ci sarà sempre questo legame come l'uomo dei tricotteri perché è il cibo del futuro giusto esatto il cibo del futuro tricotteri e plastiche però togliamo l'astuccio e magari c'è la roba c'è la plastica dentro e quindi da questo scaturisce un po' il continuare quello che è un percorso di ricerca prima di andare magari a lavorare alle Hawaii oppure in svizzera al mcdonald quindi devo provare a fare ricerca e quindi qual è la problematica come continua tutto ciò che le microplastiche sebbene siano studiatissime c'è qualcosa a loro che le genera e sono le famose macroplastiche quindi una bottiglia ad esempio che pian piano spezzettandosi con i raggi solari decorrenti genera quelle che sono le microplastiche e quindi ho detto andiamo a vedere un po' più in alto dato che poi nessuno le studia infatti ci sono veramente pochissimi studi a riguardo sulle macroplastiche soprattutto nei fiumi nel loro trasporto lungo i fiumi e quindi per il dottorato ho scelto di fare questo ragionamento e capire un po' il trasporto la distribuzione di macroplastiche lungo i fiumi e capire i loro effetti le loro interazioni con il biota quindi organismi perché non se ne sa nulla nei fiumi quindi nei punti di accumulo ad esempio capire se gli uccelli possono farci il nido quindi utilizzare le plastiche nel nido che poi possono passare anche ai pulli quindi immagina la mamma che dà ai piccoletti le plastiche e le fa mangiare oppure nei punti di accumulo delle plastiche possono avvenire tante varie cose ad esempio i pesci possono finirci travolti quindi l'entanglement vengono insomma si infilano in mezzo alle reti e via dicendo c'è un bel impatto e poi d'altro canto capire lungo la distribuzione di queste plastiche l'onotrasporto cosa può giovare ad esempio la vegetazione ripariale in qualche modo può bloccare l'afflusso di plastiche che si muove lungo un fiume quindi ci saranno delle specie che più o meno possono bloccare e quelle possono risultare molto interessanti per dare anche un piccolo aiuto al problema infatti uno degli obiettivi che ho messo nel dottorato è capire se la vegetazione ripariale può dato che non ci hanno fatto ancora degli studi e sono veramente agli albori quantificare quant'è l'apporto di insomma della la funzione della vegetazione ripariale bloccare le plastiche che è estremamente diciamo interessante però va insomma quantificato come processo quindi diciamo questo è un po' la summa di macro e micro che sto facendo macro e micro plastiche ottimo allora direi che facciamo continuare Jacopo poi dopo torniamo un attimino anche con te sul discorso delle macro e micro plastiche che sono arrivati che sono giudicato il nome ok sì quindi ostriche macro e micro plastiche adesso vediamo Jacopo cosa aspetta sono anche arrivati delle domande in chat quindi colgo l'occasione dopo quindi dovrò essere molto attenta a quello che dico per non farmi dei no comunque ti vendo bene io Luca Luca ha pubblicato anche su Nature diciamolo quindi così ti sponsorizzo io se ci sono insomma dei stakeholders dei possibili no però vabbè a parte scherzi poi ve ne parlerà meglio lui sicuramente comunque buonasera a tutti io sono Jacopo hanno detto Baldi Giovani tre volte quindi lo devo ripetere anche io Baldi Giovani in biodiversità e gestione di ecosistemi come loro la magistrale ho fatto anche un micro mini mini periodo di ricerca al museo di scienze naturali di Madrid e il mio animale totem è la rana quindi questi adorabilissimi anfibi le ranocchie ho fatto uno studio di bioacustica e in particolar modo di biotremologia che è una branca della bioacustica ossia lo studio delle vibrazioni prodotte dagli organismi e ricevute da essi quindi fondamentalmente è una roba nuovissima in realtà e quando ero in Spagna appunto stavamo studiando un rospetto carinissimo endemico della penisola elberica che è l'alite ostetrico che si fa questa collana di perle che sarebbero queste uova che il maschio porta sugli arti posteriori legate da una fondamentalmente bava da un collagene insomma che li tiene attaccati e questo chiaramente gli dà un vantaggio sopra gli altri rospetti perché si affranca si toglie via dall'acqua meglio così perché non c'è bisogno di stare lì a vegliare le uova nell'acqua troppo tempo e arriva alla pozza d'acqua soltanto nel momento nel quale le uova si devono schiudere quindi fa il suo lavoro genitoriale insomma sono delle cure parentali molto sviluppate in questo in questo animaletto e noi abbiamo insomma visto se c'erano delle vibrazioni che davano fastidio a questo animale vibrazioni che emettiamo tutti i giorni quindi per esempio il camion che passa in autostrada piuttosto che il rumore dei passi piuttosto che una cosa che c'è in Spagna tantissimo più che in Italia ossia le pale eoliche producono la generazione di pale eoliche producono delle vibrazioni e insomma c'è stato questo studio per capire se effettivamente davano fastidio o no una volta tornato in Italia ho tentato anch'io di fare il dottorato in biotremologia non seguendo la mia passione in realtà che è la comunicazione scientifica ho pensato ma proviamo visto che comunque siamo all'interno di questa carreggiata e continuiamo a guidare la macchina in questa direzione e ho provato a studiare invece la comunicazione acustica in delle formiche perché sì gli insetti comunicano acusticamente e non soltanto diciamo producono dei suoni ma addirittura hanno degli organi specializzati per la produzione dei suoni quindi non è una cosa che fanno a caso ma è una cosa per cui l'evoluzione ha fatto sì che addirittura avessero degli adattamenti funzionali a tal punto da da avere appunto questo tipo di comunicazione oltre alla merita di comunicazioni che hanno e su in particolar modo un parassita del di diniti di formiche che sono i cosiddetti paussini che sono insomma dei coleotteri e che fanno loro sono talmente tanto specializzati a parassitare questi diniti di formica che addirittura non soltanto hanno evoluto delle del loro parassitismo chimico sia ingannano la formica dicendo sì sì io sono del tuo stesso nido non ti preoccupare stai cernendo dei idrocarburi cuticolari che sono simili una roba che insomma in corso dell'evoluzione è assurdo no blow your mind cioè ti fa esplodere proprio la capoccia dici ma come è possibile che producono la stessa sostanza chimica non è la stessa ma è abbastanza simile da poter ingannare il cosiddetto nest mate il compagno di nido ma addirittura questi hanno evoluto un organo simile a quello che hanno le formiche si chiama l'organo stridulatorio che mima la la comunicazione acustica delle formiche quindi non soltanto glielo spiegano chimicamente ma glielo spiegano pure verbalmente ti dice no 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 so proprio io e emettono le vibrazioni del delle formiche e quindi insomma sono completamente ingannate le formiche non possono fare niente e soccombere a questo parassita incredibilmente intelligente però eventualmente non glielo ho spiegato così bene all'università e quindi non hanno scelto questo progetto dottorato e e quindi sono sono riuscito però a rientrare all'interno di questo master seguendo la mia più grande passione probabilmente ossia la narrazione direi in generale a me piace raccontare delle storie e in particolar modo raccontare le storie su quello che ho studiato per tutta la vita insomma è il coronamento di un sogno o perlomeno vorrei che lo diventasse facendo il master in giornalismo nella pratica scientifica dell'università alla sapienza di Roma e adesso sto scrivendo anche per una rivista di ematologia dice che c'entra se fai il giornalista scientifico devi scrivere di scienza un po' dove ti capita l'opportunità di farlo e ho pubblicato degli articoli insomma con loro e che altro ho parlato un sacco non lo so allora te lo devo dire devo fare la figura quando hai parlato della storia delle rane scusami ma mi è venuto in mente di Mandalorian non so se l'avete visto era la puntata in cui si mangia tutti gli uomini ecco quindi però in realtà sono sorte domande molto più intelligenti quindi direi che passerà direttamente a quelle non faccio altri riferimenti ovvio mi fermo qua e bene ottimo io volevo un attimo chiedervi di spiegarci un pochino per quanto riguarda il vostro progetto rewilding happiness e dopo direi che possiamo far spazio un po' alle domande che sono venute fuori nella chat molto interessanti legate ai vostri progetti ok super penso che il migliore per spiegare la collaborazione riguardo in happiness è Jacopo perché è il leader io e Luca lo stiamo supportando possiamo fare così se no parlo solo io la introduco poi Matteo ieri tu ieri e l'altro ieri abbiamo fatto un'esperienza molto interessante magari la racconti tu va bene ok motivo per cui noi abbiamo noi ci siamo scambiati chiaramente dei messaggi con Meat Science prima di di organizzare la questa questa serata ma non li abbiamo veramente per cui mi scuso pubblicamente non li abbiamo seguiti abbastanza eh perché noi stavamo lì in Abruzzo è un po' una scusa lo so però mi dispiace no guarda poi hai beccato la persona sbagliata c'è me in questo caso che se io non ho tutte le cose super organizzate basta vado io hai capito no no hai fatto benissimo veramente faccio io dico ti capisco perfettamente perché anch'io faccio quindi proprio la persona che ha degli ospiti ogni settimana poi alla fine non organizza invece nel senso è stato proprio una cosa vabbè comunque a parte il prostrarsi in pubblico così rewilding up and nines è un'associazione nata nel 2011 fa parte di un consorzio più grande che si chiama rewilding europe e fondamentalmente si basa su una filosofia su una cultura molto semplice riportare allo stato wild che nel concetto inglese americano del termine degli spazi dei passaggi che sono fortemente urbanizzati insomma che hanno l'influenza dell'uomo in ogni caso come si traduce questo concetto bellissimo in America perché chiaramente immaginatevi le praterie erbose dove pascolano dei bisonti giganteschi e quindi rewilding assume questa connotazione così perché è un concetto nato in America negli anni 60 il rewilding come si traduce in Europa e specialmente in Italia visto che non c'è uno spazio un lenzuolo un fazzoletto libero di terra dove effettivamente chiamarlo posto selvaggio perché in Italia non c'è non si può non si può quindi in Italia assume un'altra connotazione e più in particolare nell'appennino centrale con rewilding appennines si fa specialmente convivenza uomo animale selvatico piuttosto che si fa ricerca quindi si dà una mano alle università e alle istituzioni che si occupano di ricerca di quegli animali selvatici facendola in maniera sostenibile piuttosto che aprire delle attività che chiaramente essendo praticamente l'uomo attaccato all'animale selvatico in maniera contigua perché immaginatevi che non ci sono chilometri di spazio fra qui e l'habitat del per esempio in questo caso la specie bandiera più famosa dell'appennino centrale l'orso bruno marsicano non c'è una porta che dice ok qui mi fermo l'animale vaga vaga perché giustamente non presenta confini geografici non riconosce quelli politici specialmente non riconosce il confine fra il parco regionale d'Abruzzo Lazio e Molise con l'Aquila dice vabbè io entro non è che mi fermo al comune e passo al casello non gli frega niente all'animale lui vaga così come giusto che faccia e quindi piuttosto che relegare gli animali si cerca di abituare di sensibilizzare le persone alla presenza e soprattutto a far nascere delle attività economiche sostenibili turistiche anche che però abbiano in mente che non sono gli unici padroni del territorio dove vivono ed è una iniziativa molto ambiziosa per questo posso forse annunciarlo ufficialmente per la prima volta sono diventato a quanto pare Young Rewilding Ambassador quindi ambasciatore della cultura rewilding in Italia e che significa semplicemente che si fa comunicazione sul rewilding come stiamo facendo da aprile abbiamo iniziato questa collaborazione da aprile con loro e in particolar modo abbiamo iniziato questa serie di video che dovrò montare appena ho il tempo appena ho la vita per poterlo fare che abbiamo realizzato ieri e l'altro ieri perché siamo andati a fare una bella cosa Matteo sì diciamo che mi sono venuti a trovare dopo un mese di isolamento perché perché c'era proprio l'esigenza da parte di Reguardina grazie infinite per aver raccontato sui social condiviso le nostre reti i nostri pensieri le nostre politiche le nostre attività i nostri progetti ma venite a vedere che cosa facciamo conosciamoci di persona e cerchiamo di raccontare terze immagini reali quello che sono i posti in cui operiamo abbiamo conosciuto una marea di gente locale di paesini di questo paesino sperduto sul copulso della montagna di cui porca miseria mi sono innamorato il pettorano sul gizio e quindi sostanzialmente l'obiettivo di questo weekend è stato quello di riprendere sia attività di volontariato da parte di ragazzi e ragazze che ci vengono da tutta Europa per fare questo tipo di stage perché come diceva Jacopo è una rete europea quindi immaginatevi ragazzi e ragazzi di città europee che vengono a pettorano sul gizio per 20 giorni volontariamente perché gli stanno a cura la possibilità di fare le azioni positive per attività di conservazione di specie selvatiche target come l'orso marsicano ma non solo assolutamente e quindi ecco abbiamo cercato di raccontare con Jacopo come regia perché conosceva meglio di tutti perché ha dovuto studiare più di tutti tutta una serie di attività e è raccontato con diciamo chi lavorava con le guardie quindi Angelo e Mario e Valerio che sono stati super disponibilissimi abbiamo raccontato anche diciamo la visione del sindaco di pettorano quindi una parte politica importante del luogo e ci ha raccontato il pro e contro di vivere in zone dove appunto la componente naturale è preponderante per cui appunto la gestione sostenibile delle risorse naturali è fondamentale la condivisione dei luoghi è principio cardine quindi niente sostanzialmente usciranno una serie di video documentaristici che racconteranno appunto alcune delle realtà attorno a riguardo in app e anzi a quello che faranno quello che fanno e quello che faranno continuano a fare quindi that's it diciamo ma i video usciranno sul vostro canale o sulla loro pagina vai no no questo è addirittura vedi tutto perfetto perché vedi lei è bravissima a fare regia perché lo può dire Luca può parlare di una di una roba perché noi ci siamo andati con una troupe che abbiamo creato due anni fa ormai sì infatti mi volevo legare esatto lo sfiega lo sfiega lui perché noi abbiamo creato questa troupe si chiama Oikos Film e di nuovo ho invorticato anche loro a fare come si dice a Roma invorticare cioè prendere coinvolgere forzatamente quasi no sto scherzando ovviamente sono stati molto contenti abbiamo creato questa piccola troupe e abbiamo fatto questi video probabilmente li pubblicheremo sul canale youtube di loro ok ormai un paio di anni come diceva pure Jacopo c'era un po' venuto il senso di raccontare ulteriormente quello che si vede con occhio anche da biologo no quello intorno a te quindi e che la natura poi soprattutto è anche nel parco dietro casa così come basta uscire appena da Roma che ci sono tantissime aree verdi di cui non si conosce moltissimo e invece c'è una biodiversità insomma e una naturalezza molto molto speciali e quindi quell'estate stavo facendo una passeggiata in un parco vicino casa e assolto i miei pensieri mi era venuta in mente questa cosa e quindi uso il verbo di prima ho invorticato quella che è la troupe di Life ho detto questa cosa è ad hoc per noi però d'altro canto oltre ai biologi serve comunque sia una troupe che sia eterogenea nel reparto tecnico esatto dei gruppi eterogenei per arrivare insomma all'obiettivo anche in questo caso ci sono delle persone che si intendono e fanno appunto regia e montaggio video quindi in Oigos Film abbiamo abbiamo quindi aggregato Giulia Garzia mi risuona il cognome che ha detto sì che è strano che non è non è casuale poi c'è abbiamo Zara che fa il montaggio dei video e dietro tutti questi video c'è una marea di 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 altre cose come ad esempio i droni perché raccontare poi i posti ci si arriva anche molto bene con il drone quindi fare delle riprese con campi lunghissimi autoscettazione grazie a Francesco e Luigi che sono altri due dottorandi di di Roma 3 che stanno a biologia con noi con me personalmente è stato molto interessante quindi si è creato questa questa equipe diciamo di di Oigos Film e il progetto il primo che avevamo fatto era Ex Urbe che sta ancora in in uscita tra l'altro a breve uscirà l'ennesima puntata che è ormai la terza puntata su su un'area protetta che è molto molto secondo me è bellissima è fantastica il lago di scusami è la Lumiere e la Tolfa che è un gioiellino del Lazio che pochi magari conoscono e personalmente nonostante non sia un'area protetta senso stritto ma c'è un piccolo sicca all'interno la Tolfa non è non è al controletta ma è naturalisticamente un gioiellino del Lazio e quindi ci siamo mossi con ex urbe sui vari parchi aree protette del Lazio questo per per far vedere a chiunque che basta fare un passo fuori da Roma e c'è di tutto e poi inoltre un altro progetto che è stato appunto messo in moto è quello di cui parlavano poc'anzi sia Matteo che Jacopo quindi quello con Rewild Up and Heinz ottimo benissimo inviro sulla chat il canale YouTube su cui potete trovare grazie così almeno potete trovare sia il canale la pagina Instagram di cui parlavamo e trovate l'equivalente su Facebook sia il link a Twitch così potete seguirli e poi seguire le live sia il link al canale YouTube su cui appunto vengono caricati poi questi film scusate scusate io qua con sta chat ok ce l'ho fatta anche per la chat di Skype bene bene ottimo allora direi che possiamo passare un po' alle domande che sono arrivate è veramente poco il tempo perché con i vostri tre profili tantissimi argomenti super interessanti che creano un po' una concatenazione veramente di domande e altri argomenti è veramente bello quindi vediamo se riusciamo a fare tutto ma sicuramente buonanotte apprezzo molto anche la vostra capacità di riuscire a comunicare in maniera concisa ma chiara diretta e il tuo invece era proprio buonanotte te ne vai bravo complimenti Luca fa vedere il peggio di noi d'altronde non è un caso che è nell'ombra che rimane un tempo dunque allora no aspetta la domanda sulle ostre che a parte che vogliono sapere dove sono le ostre che più vanno al mondo prima giustamente anche le più economiche ti chiederei se riesci a trovare perché quello è un altro fattore purtroppo allora c'ho la risposta ah ce l'hai la risposta grande e poi no io voglio sapere anche perché è così importante studiare le ostre che di tutto il mondo è veramente curioso sono sicura che c'è una paramotivazione però sì è una questione che mi sta molto ancora in primis posso dirvi dove non si trovano le ostre che più buono nel mondo nella foce di un affluente del tevere chiamato Canale Pescatori a Ostia a Roma dove ogni tanto prendo attingo dei campioni di tessuto fresco per degli esperimenti extra e quindi là ci passa veramente l'acqua più putrita del mondo e quindi ecco dove non dove non andare a mangiare le ostriche ma effettivamente è il posto più economico dove andare a mangiare le ostriche perché poteva raggiungerle da sola prenderle come faccio io però non mi posso mangiarle comunque a parte gli scherzi le ostriche sono allevate coltivate se usiamo inglesismi o quant'altro in tutto il mondo e secondo la FAO una specie in particolare ma poi in realtà soprattutto in Asia e in America se ne coltivano di diverse specie è l'organismo acquatico più diciamo prodotto per il mercato ittico dopo una specie ittica di pesce per le pinne di pesce tra l'altro non sto parlando di squaglia ho scoperto che si fanno delle acquacostiture di pesci per le pinne solamente a parte questa cosa perché studiare le ostriche tutto il mondo innanzitutto la famiglia delle ostriche in realtà in senso stretto non rappresenta non appartiene a quelle che noi chiamiamo ostriche perlifere quindi c'è da discriminare le ostriche perlifere da quelle commercializzate principalmente per l'alimentazione quindi le ostriche in senso stretto non producono perle commercializzabili e sono una settantina ottantina in realtà si stanno scoprendo specie quasi ogni anno con l'avvento del molecolare soprattutto perché la tassonomia classica che si basa sulla morfologia l'identificazione di caratteri diciamo discriminabili per le specie non funziona ci sono una serie di convergenze di fenotipi dell'aspetto della conchiglia dettati da condizioni ecologiche per cui ostriche anche di sottofamiglia totalmente distinte tra loro possono acquisire morfologie della conchiglia uguale identica specificata nei luoghi in cui appunto c'è rossa corrente quindi le conchiglie si assottigliano anche se magari il morfotipo naturale è estremamente più arzico colato e più complesso quindi ci sono tutta una serie di convergenze che mettono in inganno anche i testomini più esperti e quindi con il molecolare con diciamo dei dati indipendenti da morfologia o di DNA si riesce a indagare invece su chi è veramente chi e quindi perché è importante studiare queste cose in realtà in primis è pure ricerca di base e come la storia della scienza ci insegna la ricerca di base non sai mai dove ti può portare ma senza ricerca di base noi a questo punto non staremo neanche facendo delle live switch quindi in generale io porto sempre avanti quando tratta l'importanza della ricerca di base anche in ambiti in cui non sai mai dove si va a parare adesso in realtà è incredibile perché le ostriche sono essendo molto commercializzate vengono anche trasportate anche involontariamente da rotte commerciali navali eccetera quindi le introduzioni specialiene che possano andare a intaccare ecosistemi l'equilibrio di ecosistemi è una cosa importante riuscire a individuarli con strumenti grazie alla tecnologia in modo più immediato è veramente un buon buon strumento applicativo ad esempio per zone tropicali dove la biodiversità è già costantemente inacciata per altri fattori quindi l'introduzione delle specie alieni è una tematica calda e la possibilità di individuare una specie aliena con veramente poche procedure laboratoriali non è da poco e poi in generale insomma mettere fine a 200 anni di sinonimie e nomi sbagliati e dare finalmente nomi alle persone insomma è una cosa importante in zoologia perché poi a cascata si possono fare studi di ecologia di genomica quindi macroecologia e macroevoluzione dando realmente nomi giusti alle cose giuste quindi non sbagliando poi tutta una serie di studi a valle quindi questo è più o meno una delle tante cose in realtà immagino sì che poi potresti andare avanti probabilmente per ore a spiegare i vari motivi però molto interessante devo ammettere che nella mia immensa ignoranza in materia davvero non avrei mai immaginato ma veramente interessante questo è il bello di fare questo genere poi di live si conoscono appunto persone che hanno degli interessi bellissimi diversissimi e c'è la possibilità di trovarsi di parlarne e avere appunto un pubblico che segue insomma si crea una serie di interconnessioni veramente veramente belle molto interessanti sì bene bene allora adesso passiamo all'uomo delle macro micro plastiche e ha acquisito a sua volta altre domande allora provo un attimo a unirle tutte e tre che così almeno poi tu provi a farci un po' un discorso allora sì allora Pandri chiede ma è vera la storia che molte microplastiche partono anche direttamente dalle lavatrici domanda uno domanda due che dati usati usate sulle microplastiche fluviali o che fiumi state studiando ce n'era una terza sono sicura mi fermerei qua intanto non mi dimentico no una volta gli astucci erano fatti di conchigli oggi gli conchigli scusa questa non era una domanda vabbè leggiamola voglio ridere te la ridengo sì allora una volta gli astucci erano fatti da conchiglie oggi le conchiglie sono fatti da astucci è geniale è geniale ma questo va oltre tutti risponde a tutto ok allora in ordine in ordine boh è meno sparso perché non mi ricordo più come era? ah le lavatrici le lavatrici quindi cronologico uno rispondo alla prima domanda e sì è vero perché ci sono le lavatrici che ad esempio con il lavaggio di vestiti possono possono rilasciare le fibre microfibre perché dai vestiti che comunque si hanno sono composti di di vari tessuti plastici e polimeri plastici da lì il lavaggio insomma può provocare questa la fuoriscita poi di microfibre quindi vanno a finire in in scarichi e arrivano anche a quelli che sono i depuratori i depuratori in dipendenza di come vanno a funzionare poi sono secondo la letteratura un pool di rilascio di fibre microfibre nei fiumi quindi effettivamente sì questo fenomeno è stato abbastanza studiato e dibattuto da vari scienziati quindi sì effettivamente sia da vestiti che da lavatrici era un bel di importanza l'altro punto come domanda mi sarei aspettato se le microplastiche oltre le secondarie cioè quelle che vengono da degradazione di macroplastiche se ci fossero altre no ponti invece nessuno l'ha chiesto e l'invece è importante sottolineare che anche soprattutto per il pubblico femminile esatto gli scrubs adesso vogliamo sottolinearlo esatto gli scrubs perché dico scrubs perché dentro questi prodotti cosmetici che soprattutto il pubblico femminile che si ascolta utilizza ci sono delle palline quelle che spregano il corpo che sono composte di polimeri plastici come il polietilene o il polipropilene e quindi quelle vanno diretti sono microplastiche primarie cioè l'industria le preforma le origina proprio industrialmente in questa maniera per questo uso anche le sfere che ci sono nei dentifrici allo stesso modo sono microplastiche primarie quelle pallettine che sono nel dentifricio e tutti questi poi vanno a finire di conseguenza in scarichi vengono portati a influenzare quella che è la plastic pollution e di conseguenza invece rispondendo come? posso farti una domanda riguardo a questo hai menzionato i trucchi mi viene in mente però quando ti trucchi non ti lavi direttamente la faccia ti strucchi e il cotton shock lo butti nell'indifferenziata quindi in teoria c'è una sorta di minore inquinamento e solo un'infusione da una parte che faccio la sensazione ma lasciamo da parte ok in realtà perché sei una brava persona e fai la differenziata slash indifferenziata però ci sono tanti di quei prodotti che vengono rilasciati direttamente nel water e quindi persone non sensibilizzate e tu immagina anche persone più anziane anche fino a qualche decennio fa non c'era molto questa sensibilizzazione che c'è oggi anche grazie a mass media e le cose venivano buttate direttamente anche a mare con questo gioco è un po' quello che stiamo anche vedendo con la Diogo Donfioc il progetto di cui parlava prima Matteo stiamo vedendo che ci sono tantissimi rifiuti ritrovati sempre sulla spiaggia sulle dune e sono sempre quelli ce ne sono di alcuni gruppi sempre preponderanti perché alcuni vengono dal mare vengono trasportati tramite i fiumi verso il mare altri vengono provengono anche da queste operazioni di cui parlavo quindi vengono scaricati da casa e passano direttamente verso poi i lidi certo invece la seconda domanda che provo a ricordare vediamo se ti ricordi potete metterla alla prova vai dai è tardi che date date sulle macroplastiche funiali o che fiumi state studiando allora per le macroplastiche in realtà stiamo stiamo studiando la vegetazione ci sono diversi progetti il primo di cui menziono è la vegetazione ripariale su diversi fiumi nel Lazio come ad esempio l'aniene che è molto interessante in quanto affluente poi del Tevere quindi si mette sul Tevere che a sua volta poi porta il suo contenuto di varie plastiche verso il mar Mediterraneo quindi questi due fiumi principalmente e poi anche tanti altri fiumi e torrenti dell'Alto Lazio verso il Reatino ci sono una serie di fiumi che sono più torrentizi e quindi è interessante vedere in montagna quindi lì dove ci sono le sorgenti la varia la varia composizione e quantità di plastiche che ci sono lì rispetto anche alle foci quindi il lago il fiume Turano il fiume Velino tutti i fiumi del Reatino ad esempio in queste sorgenti si vanno a vedere ci sono dei rifiuti differenti da quelli che stanno più alla foce almeno questo da analisi preliminari è uscito fuori questo come risultato e poi ci sono altri progetti stiamo stiamo valutando anche il trasporto delle stesse plastiche e quindi se la vegetazione può intrappolare le plastiche che vanno verso insomma si muovono lungo il fiume e da alcuni campionamenti insomma è emerso che ci sono delle tipologie di piante che possono bloccare più facilmente le plastiche come ad esempio immagina l'alloro l'alloro che con i suoi rami i polloni che ha da sotto fa questo cesto e quindi riesce molto più facilmente a bloccare plastiche rispetto a una pianta che invece un albero una pianta che invece va su come immagina un cipresso per capirci oppure ci sono piante come il rovo ma anche il crategus che ha le spine quindi tutte le piante spinose riescono facilmente a bloccare e proprio a bloccare e intrappolare le plastiche dici sì grazie al cavolo è vero però da qua può sorgere anche un altro problema che bloccando la macroplastica con la spina poi magari è molto più facile che questa si spezzi in meso e poi diventi microplastica quindi ogni fenomeno che si va a osservare e poi a analizzare e studiare più nel dettaglio secondo poi il metodo scientifico risulta essere molto interessante perché da lì possono succedere e originarsi diversi processi che devi andare a ipotizzare e effettivamente studiare ma a proposito infatti di trattenere sempre mt underscore mt mt ha commentato prima io abito lungo il seveso noto torrente pieno di fuffa della brianza e le robinie lungo le rive sono molto ben addobbate di plastica probabilmente le spine aiutano molto a trattenere esatto si ha ragione ha molto ragione si 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 le robinie tra l'altro tra l'altro sono specie che non fanno proprio parte della vegetazione sifariale e neanche di quella autotona sono specie aliene come prima diceva pure Matteo sono delle specie che interferiscono rompono un po' le scatole dal punto di vista della loro per la loro aggressività alla alla vegetazione che invece è presente in loco quindi tutto tutto ciò che è autotono quindi specie che non dovrebbero essere qui ma sono state semplicemente trasportate dall'uomo per fini più o meno economici rigate al commercio però la domanda che ve la faccio io a voi e se una specie come la robinia che sebbene sia diciamo aliena e quindi le specie alieni andrebbero eradicate magari fornisce questo servizio di togliere plastiche più efficiente rispetto a una specie che invece è autoctona potrebbe essere interessante perché poi bisogna vedere sempre da entrambi gli estremi da entrambe le facce della stessa moneta quello che sta studiando bisogna essere critici ma non rispondiamo non rispondiamo era un pensiero questo artificiale che si può progettare tipo biomimesi rubare la morfologia funzionale di un mecanismo vivente per gestire in modo più funzionale poi un problema sarebbe figo delle barriere progettate come se fosse vegetazione ripariale per alcuni rifiuti poi da poter rimuovere in semplicità poi Luca stai facendo dottorato microplastiche ci fai lo studio sulle microplastiche nel senso ci spieghi tu diventa ricco scusami qualche saldo da chi cosa studi oh pure le otterie Matteo nel frattempo prendendo parola scusa ti ho otterrotto no 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 guarda quando hai detto vi faccio una domanda rispondete voi io sapevo già che non avrei saputo la risposta quindi ho detto stacco il cervello guardo la chat così se qualcuno riesce a dare la risposta faccio intervenire chi riesce è in automatico lo sapevi e non vale il sapere che non so è una delle cose che so bene non arrivate comunque è importantissimo dovete fare delle dovete fare delle magliette di mid science con questa frase io ve lo dico io sono già proiettato anche sul fare dei soldi tramite la comunicazione come possiamo fare vendiamo delle magliette con scritto una rivisitazione della frase socratica io il sapere di come detto spero ripeti il sapere scusa ma certe perle escono una volta giustamente è registrato tutto è registrato è registrato bravo facciamo un po' grazie per la verità sul merchandising mi piace molto ci penseremo ci penseremo no allora vale shikom oh vale ciao vale perfetto un'altra vostra seguace seguace no vabbè è anche una pure lei è una comunicatrice seguite la sua instagram anche lei fa delle cose bellissime chiedo chiedo perdono vale e appunto diceva confermo quando facciamo le pulizie della plastica sulla spiaggia per la tutela del frattino troviamo sempre questi tipi di plastiche quindi mi domando qual è l'impatto reale sulla catena alimentare della fauna marina ci sono tanti hai detto dei neghi di plastiche trovano tipi ah tipi ho sentito male no ce ne sono tantissimi sì in mare può può venire davvero di tutto quindi dall'ingestione del del litter del beach il marine litter quindi immagina un gabbiano che porta anche i rifiuti no ai pulli per quando gli porta da mangiare quindi c'è l'ingestione diretta ma c'è anche quello che è l'essere strozzati e l'impigliamento nelle plastiche quindi quando ci sono delle buste di plastica ad esempio sia i pesci ma anche le tartarughe marine ad esempio così come i delfini no ci vanno a finire le reti di plastica quelle scusami le reti di pescatori con cui si va a pescare anche quindi c'è una miriade di inquinamento e poi con l'ingestione delle microparticelle microplastiche queste possono dall'organismo essere trasferite pian piano lungo la catena trofica e arrivare fino ai top predators quindi immagina pian piano questi pescetti che vengono mangiati dai predatori e portano la plastica sempre più in alto fino ai predatori più alti che bene o male poi insomma finiscono anche sui piatti dell'uomo quindi il rischio è legato anche alla salute umana però ci potrebbe anche essere un come dire volevo fare esempio di di problema c'è anche le dune che del beach litter qui faccio riferimento anche Vale ad esempio sulle dune se ne trova parecchio perché hanno una certa fisionomia quindi dal mare ciò che arriva può essere benissimo spiaggiato e poi dietro le dune si può accumulare e ci sono anche lì una vegetazione che è spontanea o meno che può benissimo bloccare le plastiche ad esempio di recente un altro progetto che stavo facendo era vedere se una specie aliena che sta sulle dune che è il Carpobrodus poteva in qualche modo bloccare le plastiche insomma i risultati hanno un po' mostrato che effettivamente sia i frammenti di plastica che il polistirolo che altri I.I.U.S. venivano benissimo bloccati da questa pianta aliena è andato via l'audio eh sì è andato via l'audio no 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 aspetta si si è solo un po' ritardo il video ok ah è vero forse è così ok no ho finito forse dopo col video ok ok perfetto da la regia anche confermono benissimo grazie mille adesso penso che le domande per te siano finite per davvero quindi possiamo andare avanti con Jacopo allora Vale prima ha chiesto quando hai parlato appunto della rana se è rana agile della no la rana abbiamo stato un rospo innanzitutto in Spagna che è l'aliteostetrico quello che fa la bella collana di perle che vi ho raccontato prima e basta sono stato velocissimo perfettamente sulla tabella di marcia non lo trovate in Italia si trova solo in Spagna rospo aliteostetrico ok Andrea che appunto fa parte di Meet Science è rimasta libito dal fatto che le formiche comunicano con i suoni e ci hanno scritto proprio così ci hanno pure i dialetti ma sono solo io sconvolto dai dialetti delle formiche e dai parassiti che gli imitano e ancora va avanti perché l'altro è stato continuo la devo interpretare come una domanda o meglio no al riguardo c'è una letteratura una domanda un po' più di spiegazione un po' più discorsiva un po' discorsiva no è pazzesca perché hanno i dialetti innanzitutto sì beh più o meno hanno i dialetti nel senso hanno questi come dire per esempio ogni ogni nido di formica ogni specie ha come sappiamo tutti sono degli animali eosociali che vuol dire animali e sociali non soltanto che sociali che si vogliono bene no non vuol dire quello vuol dire semplicemente che presentano delle vere e proprie separazioni in caste attenzioni e a differenza degli animali sociali diciamo una cosa molto complicata che alle 10 e 20 sicuramente la gente riuscirà a tenere in mente è il fatto che queste caste questo sistema di caste è contemporaneo ok per esempio ci sono altri animali divisi in caste ma non sono definiti eosociali che vuol dire contemporaneo vuol dire che la regina vive nello stesso periodo di tempo in cui vive anche la l'operaia che lo stesso periodo di tempo in cui vive anche la la soldatessa e quindi si sovrappongono temporalmente queste queste caste ogni casta ha un suo come dire dialetto acustico se vogliamo chiamarlo così se vogliamo continuare la metafora questo meraviglioso carabide scusa prima ho detto coleottero non è un coleottero è un carabide dei paussini non soltanto imita uno di questi di queste emissioni acustiche ma le imita tutte e tre perfettamente così in particolar modo sto parlando se volete andare a vedere quest'animale su internet di paussus favieri che imita che è parassita dei nidi di formica di feidole pallidula feidole scritto ph che è la 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 classica formica che troviamo nel giardino di casa pure in Italia insomma è molto distribuita nel bacino del Mediterraneo e che c'hanno queste formiche che perché parlano con con i versi che fanno c'hanno praticamente non so se avete mai visto c'è uno strumento sudamericano che è un bastoncino con che che suona su una superficie ruvida e fa fa così non so se l'avete mai visto c'è un nome particolare non mi ricordo adesso come si chiama praticamente loro sul gastrum che sarebbe la parte cicciotta che hanno dietro fra il gastrum e il torace hanno un organo che si chiama organo stridulatore che non è nient'altro che una una parte cuticolare così fatto con queste creste parallele rigide cuticolari sul quale preme un plettro che si chiama plectrum che è un plettro vero e proprio cioè una parte triangolare che fa come questo bastoncino di questo strumento sudamericano che non ricordo assolutamente come si chiama e fa questo suono che si chiama stridulazione e emettendo questo suono insomma e lo stesso organo si chiama proprio organo stridulatorio lo presentano anche i parassidi però ce l'hanno sulle gambe quindi invece di fare così col sedere loro fanno così con la gamba e gli suona la gamba fondamentalmente guiro che non è guiro ma è ghiro perché gui in spagnolo è ghi se non sbaglio cioè l'anno in spagna mi dovrebbe avere insegnato che ghi grazie grazie quanto è bello pure voglio avere una voce narrante dall'interno ma guarda che è una cosa meravigliosa non è solo regia ma pure i nomi ci spara così esce fuori ma guarda che è una cosa ma poi come hai scritto posso sapere come hai scritto su google strumento sudamericano che mette spiegazione a voi lo sentite mi sentono ah ecco stiamo avendo allora perché non ci sente un dialogo con una una persona superiore a noi così sempre ottimo ottimo benissimo nel frattempo vi ricordo appunto di cliccare su tutti i link che trovate nella chat quindi il faro dei curiosi su instagram twitch e sul canale youtube il progetto ex urbe e vi invitiamo anche a seguire la pagina di vale valentina i esari underscore she com con doppie m comunque trovate anche il suo nickname di instagram nella chat nel frattempo è arrivata un'altra domanda per le macro microplastiche e ma non è che te ne devi andare tu Luca ce ne andiamo io e Matteo prima questo è tutto quello che devi recuperare del fatto che non ti fai mai vedere ci sarà un motivo giustamente è una bella domanda di stock Hudson 21 che chiede con lo spropositato utilizzo e consumo di mascherine chirurgiche è qualcosa di cui dobbiamo preoccuparci è bellissima domanda bravo sì in merito allo smaltimento è questo un grosso problema perché ad esempio a riguardo non ci sono studi c'è solamente un opinion che è stata fatta di recente dove si dice che le mascherine saranno uno di quei rifiuti del futuro quindi nella prossima decade 2030 nei fiumi nei mari troveremo molto di più mascherine prodotti covid se ci pensate alla fine quando esci di casa cioè quando già sei uscito di casa e ti sei dimenticato la mascherina rientri a casa quando sei fuori a casa ti ricordi di metterti una mascherina dopodiché dopo la giornata la prendi e la butti quindi ne consumi circa una al giorno c'è chi la mette anche tutta la settimana quindi una al giorno una alla settimana siamo miliardi di persone a utilizzarle immaginate quante ne utilizziamo ci sono milioni e milioni di mascherine che poi vengono mal smaltite quindi chi le rilascia nell'ambiente fa un grande danno perché poi la mascherina è composta di un materiale che a degradarsi col tempo forma quelle che sono microfibre ma anche quando la mettete sul naso la muovete e pizzicate un pochino vi rimangono delle fibre sulle dita quelle sono delle microplastiche delle microfibre che possono fare tutti comportare tutti gli effetti di cui abbiamo parlato poc'anzi quindi il consiglio per il momento potrebbe essere ovviamente a parte accettare le mascherine perlomeno partecipare alla raccolta differenziata indifferenziata in tal caso magari utilizzare anche delle mascherine riutilizzabili tipo quelle di stoffa sì ce ne sono allora anzitutto non rilasciarle nell'ambiente lo do per scontare brava hai ragione no no bisogna bisogna però sottolinearlo infatti non va rilasciata nell'ambiente così come gli altri riciuti ma semplicemente buttata nell'indifferenziato chi vuole invece fare un'opera di riciclo può utilizzare delle mascherine come dicevi tu io non ho provato personalmente di stoffa ma ne ho provata sì alla fine la parte fuori di stoffa è una sorta di filtro all'interno c'è c'è questo chiamiamolo filtro insomma che fa da filtro per la PM2.5 mi sembra per il particolato insomma che funziona anche per il covid che protegge insomma dalle particelle esterne così si possono poi lavare no tipo esatto si può lavare la mascherina e si cambia il filtro interno quindi bene o male c'è anche lì un utilizzo del filtro il filtro poi va cambiato però cioè va buttato anche quello e poi mi raccomando gli elastici molto più tempo come? no dico poi mi raccomando gli elastici di romperli quelli della masticherina perché spesso e volentieri tutti gli oggetti che hanno la possibilità di far infilare la testa dentro l'animale generalmente secondo la legge di Murphy l'animale ci infila la testa quindi se un animale può infilare la testa nei buchi dei lacci della mascherina lo farà e si strozzerà e purtroppo non è una roba insomma che è inventata ma c'è una testimonianza fotografica ampissima della di come effettivamente le mascherine purtroppo a parte essere inghiottite così intere tutti gli strumenti questo in realtà è una cosa che ho imparato addirittura con i possessori di gatti chi c'ha un gatto particolarmente famelico anche un cane che si mangia di tutto spesso e volentieri mi hanno raccontato delle storie di il mio gatto si è mangiato un filo eccetera eccetera i fili sono tremendi o gli elastici sono tremendi da ingerire perché poi il veterinario addirittura lo deve aprire il cane per per l'estrazione non è una roba che può espellere così tranquillamente perché purtroppo va ad arrotolarsi perché le convulsioni peristaltiche dell'intestino lo arrotola lo aggrovigliano e addirittura può provocare o una massa che non si può espellere o addirittura lacerare perché che fanno arrotolano l'intestino e lo legano e lo annodano da solo praticamente questo negli animali di casa se si mangiano un oggetto noi li portiamo magari se siamo buoni giustamente al veterinario pensate un animale insomma che è in mare vede l'elastico del insomma se lo mangia così è spacciato sai cosa anche gli anelli gli anelli delle bottiglie di plastica mi hai fatto venire in mente che hanno la stessa cosa quando buttate le bottiglie di plastica l'anello anche si consiglia di tagliarlo durante i progetti di adiodo con fioc ne abbiamo trovati tanti tutti questi rifiuti che troviamo dispersi nell'ambiente se fossero stati smaltiti a monte correttamente questa cosa non sarebbe minimamente un problema quindi in realtà stiamo sempre parlando perché non mi sono mai stupito dal primo mese in cui si iniziò a parlare di mascherine in ambiente perché come qualsiasi altro oggetto di uso quotidiano dal cotton fioc a una bustina di plastica ci sono dei comportamenti delle persone che sono ampiamente ignoranti o me ne fregiste per cui appunto viene rilasciato come qualsiasi altro oggetto di vita quotidiana la sigaretta la gomma la mascherina per cui sinceramente mi sono minimamente meravigliato che un nuovo oggetto che viene quotidianamente smaltito da milioni di persone si ritrovi in modo massivo massiccio in un ambiente quindi in realtà purtroppo l'unica cosa che secondo me funzionerà a lungo termine non sarà alla fine della pandemia ma continuare a educare alla corretta smaltimento dei rifiuti cioè non sarà alla fine della pandemia risolvere il problema mascherina in ambiente o rifiuti di altro tipo in ambiente ma sono una corretta assolutamente e una filiera è corretta adesso smaltimento dei rifiuti quindi verissimo assolutamente sì anche il riciclo poi sensibilizzare nel riciclo esatto però molto interessante sapersi anche la cosa dei lacci onestamente è un qualcosa che non viene in mente ecco semplicemente mascherina prima di buttarla strappi il laccio lo butti però strappato sì 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 perfetto bene come dicevi tu Iacopo poi dei cani dei gatti mi ha fatto tornare in mente che come diceva Iacopo può essere benissimo a qualsiasi animale mi sono ricordato di insomma avevo fatto un tirocinio in Calabria sulle tartarughe e lì praticamente ogni tartaruga marina veniva praticamente operata perché la stessa cosa i fili insomma da pesca utilizzati per pescare si attorcigliavano alla stessa maniera sull'intestino e parecchie parecchie insomma le tartarughe erano praticamente compromesse e su altre le operazioni riuscivano ma altre proprio non riuscivano a insomma andare avanti perché bisognava togliere tutto ormai era tutto attorcigliato veramente un soffocamento interno sì ma no adesso non vedremo più di lastice e mascherine allo stesso modo tanto si rompono comunque da soli quindi c'è un buon aiuto diciamo bene le domande mi sembra siano finite sono state tante quindi grazie mille veramente anche per essere stati così attivi nella chat e grazie mille a voi per essere stati qui con questa sera è stata veramente una bella live divertente con tante nuove conoscenze molto molto interessante e approfitto anche per ringraziare un'iscrizione che è avvenuta per il sesto mese di fila ho visto sopra quindi veramente grazie mille per questo affezionamento secondo me possiamo dire sì e quindi approfitto anche per annunciare la live del 26 di maggio fisica sarà la materia con domenico orlando su sistemi fortemente accoppiati e sarà Ivane a fare a seguire questa live e scusa Andre ragione il nome in telecraft grazie mille scusa mi sono letto prima e bene quindi come detto prima trovate tutti i vari link nella chat grazie per averci seguito grazie a voi alla prossima grazie mille a voi grazie mille